Presidente Giuseppe Conte, che in dieci minuti avremo come spazio di tempo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito Presidente e illustri magistrati. Ci tenevo ad essere qui, ieri ero fuori, ma ho detto al Presidente che è un momento troppo importante per mancare quest'occasione e per mancare questo appuntamento, perché questo congresso si colloca in una fase storica, di grande incertezza, un bivio storico per il nostro Paese. L'avrete già detto ed è chiaro a tutti, il Governo, che pur sostenuto da partiti ciascuno dei quali esprime una visione differente rispetto a questioni cruciali, insieme alle forze di maggioranza però hanno trovato un punto di equilibrio. Io l'ho definito da tempo, da subito, il pactum sceleris. Il pactum sceleris perché? Perché è un compromesso di potere destinato a garantire la durata, la permanenza al Governo nelle proprie funzioni. E quindi ciascuno delle forze di maggioranza ha individuato un pilastro della Costituzione da riscrivere, con il risultato complessivo di stravolgere le fondamenta stesse su cui è stato eretto il nostro edificio, la nostra architettura costituzionale. Fratelli d'Italia riscrive il sistema di Governo nazionale e la Lega, il sistema di Governo regionale, Forza Italia, si sta industriando insieme al Ministro Nordio per rivedere il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. dove questi tre distinti progetti che si combinano in questo pactum sceleris venissero attuati, avremo, ormai ci hanno detto tutti i costituzionalisti che abbiamo ascoltato, sono stati auditi in Parlamento, avremo un Premier che assomma in sé poteri rafforzati, una sorta di caudillo in versione italiana, privo di reali contrappesi, risultando esautorata la figura del Capo dello Stato, è marginato il Parlamento e ovviamente in prospettiva soggettati i magistrati al condizionamento del potere politico. E questo è il disegno. Ora, pensare di realizzare un nuovo ordinamento costituzionale che è incentrato sul rafforzamento delle prerogative del potere politico che non è stato mai sperimentato questo ordinamento in nessun'altra parte del mondo, almeno in questi termini, ed è frutto di un compromesso di potere. Ecco, questo lo dobbiamo denunciare e lo denunciamo con forza e avventurismo irresponsabile. Anche perché, attenzione, come sempre ci insegnano i costituzionalisti, le riforme costituzionali si devono sedimentare. Vi ricordate che si ragiona anche di una costituzione materiale, ma già adesso possiamo presagire e valutare in anticipo che difficilmente avremo da questo ordinamento un governo nel segno dell'efficienza, dell'efficacia di azione, visto che alla concentrazione delle funzioni di governo centrale corrisponderà comunque un decentramento delle funzioni di governo a livello regionale praticamente limitato, senza limiti. Il quadro complessivo di queste riforme ci collocheranno in un'area dove forse potremo classificare l'area delle post-democrazie con impronta autoritaria con questa particolarità, con poteri di vertice distribuiti a livello centrale e a livello regionale. Un sistema privo di equilibrio con organi di controllo e di contrapeso che saranno ridotti ai minimi termini. Questo vale per la magistratura, ma non solo per la magistratura, per voi la magistratura ordinaria, anche per quella contabile. Credo che abbiate letto, approfondito il progetto riformatore firmato da Foti depositato in Parlamento, Foti capogruppo di Fratelli d'Italia e questo ovviamente poi si allargerà con espedienti vari alle autorità indipendenti e agli organi di stampa. Ora, la nostra Costituzione è, voglio essere chiaro, è suscettibile di miglioramenti e progetti riformatori sono anche pienamente legittimi. Noi stessi ne abbiamo formulati alcuni, ma sono interventi che nascono da alcune disfunzionalità che si sono realizzate e manifestate nel corso del tempo, ma mai aspirando a una rifondazione dei pilastri costituzionali così spregiudicata. Ecco, questo è da avventurieri. Ora, la riforma della giustizia che sta a cuore molto anche a noi, credo a tutti i cittadini, è un pilastro centrale in questo processo riformatore. È un processo, l'abbiamo detto, di accentramento, ma anche di redistribuzione dei poteri in senso verticistico. difficilmente, vedete questo disegno, potrà completarsi con la magistratura indipendente, impegnata ad attuare il principio intimamente democratico della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Di qui la prospettiva della separazione del carriere, la riforma del CSM, di qui anche l'aumento della componente laica, la revisione dell'obbligatorietà della legge penale. Sono tutti corollari di un medesimo disegno riformatore. È evidente che la svolta autoritaria comporta il disegno riformatore, presenta delle assonanze col progetto di rirascita democratica della P2. Sono evidenti queste assonanze. Però, per consentire questo pieno dispiegamento del primato del potere politico, il magistrato, e questo che viene inteso, deve ritornare nel ruolo vecchio, antico, anacronistico, di funzionario. Voi avete trovato il titolo che tocca i pilastri, veramente il cuore, della vostra attività, della vostra funzione. Interpretazione interpretazione e imparzialità. Vi vogliono riprecipitare nel ruolo della Bush de la loi, secondo la logica antica di Montesquieu, oltre due secoli fa. Il giudice è la bocca della legge, non interpreta la legge, la applica. Il giudice non ha poteri, non ha discrezionalità. in realtà noi dobbiamo dire che c'è tutta una scienza giuridica, ci sono secoli, non è tanto la rivolta contro il formalismo giuridico, è che ormai siamo tutti consapevoli che il significato è il frutto di un processo interpretativo, è un gesto ermeneutico che non può non essere, come dire, che non può offrire un significato precostituito. Dobbiamo anche dire tra di noi, se ragioniamo tra detti e lavori, che non è più sostenibile che il giudice sia completamente sottoposto alla legge. Vero sul piano formale, sul piano sostanziale, e questo non è così, in una prospettiva giusrealistica Giovanni Tarello diceva potremmo affermare questo se fossero veri due assunti. Il primo è che ci sia appunto un significato precostituito, il secondo è che si possa distingue un'interpretazione vera da quella falsa. In realtà siamo consapevoli che non esiste un significato precostituito e quindi il giudice ricava il significato delle norme. Voi lavorate interpretando i principi costituzionali, un'interpretazione costituzionalmente orientata, applicando, interpretando i principi e le regole del diritto europeo. Ancora non avete più come in passato una gerarchia delle fonti unitari e molto più complesso è il sistema delle fonti. Dovete curare costantemente la tutela dei diritti fondamentali, dovete operare un bilanciamento di interessi in gioco spesso di medesimo rango costituzionale, dovete avere cura di realizzare sempre non solo l'eguaglianza formale davanti alla legge dei cittadini ma anche di guardare e perseguire l'eguaglianza sostanziale rimuovendo tutti gli ostacoli facendo sentire tutti i cittadini pienamente protagonisti della vita politica economica sociale e culturale del paese. Aggiungiamo che l'espansione dei diritti sociali l'espansione degli stessi apparati pubblici la moltiplicazione dell'occasione di conflitto hanno aumentato il bisogno di tutela dei cittadini rispetto all'ingerenza delle proprie vite e tutto questo ha comportato da noi come in altri ordinamenti un ruolo sempre più attivo di voi giudici degli organi giudiziari a difesa degli interessi dei cittadini ora il vostro ruolo sta diventando sempre più scomodo finisce per rivestire un ruolo latamente politico ma questo dobbiamo dire c'è un'incidenza politica oggettivamente politica nella vostra attività dovuta dalla vostra posizione agli effetti delle vostre decisioni ma questo è un problema serio da affrontare non come viene affrontato invece dagli esponenti politici nelle cronache di questi giorni perché di fronte all'inchiesta qui che coinvolge l'esponente politico c'è la difesa corporativa allora vediamo che di fronte a diffusi gravi episodi di corruzione perversi intrecci tra politica affarismo aggravati anche spesso alle infiltrazioni mafiose c'è una reazione indecorosa che dobbiamo denunciare con forza perché quell'azione ha il semplice e chiaro obiettivo di delegittimare la vostra azione e allora in questi giorni i fior di ministri che dichiarano denunciano al solito la giustizia orologeria la formula bon act to fair per in un paese dove ci sono elezioni di continuo oppure ancora accusano la magistratura di invadere gli spazi riservati alla politica un'accusa se ci pensate che questo era il ridicolo perché sembra quasi postulare che la politica abbia il diritto di occupare indisturbata gli spazi del malaffare non sono mancate giustificazioni e coppie estemporanee del genere così fan tutti arrivando a ipotizzare di piazzare micro spie negli uffici giudiziari da ultimo c'è sempre quel ministro che si sveglia e dice ma io ve l'avevo detto avete visto che l'inchiesta sarebbe arrivata e anche qui sembra anche implicitamente sfiorare il ridicolo perché di fatto ammette che le pratiche del malaffare ormai correvano di bocca in bocca da nord a sud da ultimo poi abbiamo anche il ministro nordio il quale riesce a censurare un'inchiesta appena avviata in corso senza neppure premurarsi come di solito si fa in questi casi puntualmente di mandare gli ispettori ora questa maggioranza sta offrendo uno spettacolo pessimo la politica nel suo complesso sta offrendo uno spettacolo pessimo perché vedete e qui si vede la scarsa qualità del nostro dibattito democratico non c'è nessuna volontà di interrogarsi non c'è nessuna volontà dico della classe politica in generale certo delle forze anche civili culturali su quelle che possono essere le misure per contrastare questa facile permeabilità che i partiti gli apparati politici pubblici stanno mostrando rispetto alle filiere delle corruttele alle logiche di sistemi clientelari sempre più diffusi alle pratiche del voto di scambio politico mafioso mi ha colpito scusate se faccio un'autocitazione io agli inizi di dicembre dello scorso anno pubblicai una lettera aperta su Repubblica proprio dedicata alla questione morale è caduta nell'indifferenza generale non c'è stato neanche un dibattito non si è aperto un dibattito allora nessuna volontà e questo è un problema della qualità della nostra democrazia di voler recuperare un etos pubblico che sembra ormai completamente esiliato con i risultati che si stanno ricreando lo sto denunciando lo stiamo denunciando le perverse premesse di una nuova stagione di Tangentopoli su tutto il territorio nazionale e attenzione governo e maggioranza cosa stanno facendo in tutto questo non è che si mostrano indifferenti stanno sistematicamente indebolendo gli strumenti di contrasto della corruzione in generale dei reati dei colletti bianchi non vi faccio l'elenco conoscete benissimo da quando sono intervenuti sui reati ostative e benefici penitenziari abolizione dell'abuso ufficio traffico di influenze limitano cercano di limitare in tutti i modi le intercettazioni i vostri strumenti investigativi nel DDL Nord poi c'è quella norma per cui devi preavvisare la persona ad arrestare la devi preavvisare del preventivo interrogatorio l'inchiesta di Genova non ci sarebbe stata con queste norme scordiamoci le inchieste e questo è il messaggio del potere politico lasciateci lavorare lasciateci continuare nella nostra azione anche perché si dimostra insofferente rispetto a un altro tema l'opinione pubblica è molto temuta deve rimanere all'oscuro ed è per questo che ci spieghiamo la norma Bavaglio e il fatto vedete che le forze di maggioranza con la buona complicità di alcune forze che sono collocate idealmente al centro all'opposizione ma su questo assolutamente votano sempre con loro infilano dappertutto anche norme che spuntano come funghi proprio in questa direzione anche quelle per punire con il carcere i giornalisti quindi è un problema non si vuole che il discredito ricada sulla classe politica allora la prospettiva è molto complicata anche perché hanno i numeri certo per le riforme costituzionali c'è da condurre una battaglia non solo in Parlamento ma abbiamo una prospettiva referendaria ma dobbiamo coinvolgere il Paese dobbiamo spiegare di che cosa si sta parlando e lo dobbiamo fare con linguaggio di verità e autenticità allora io vi dico per quanto riguarda la separazione del carriere la nostra posizione è molto chiara noi non riteniamo assolutamente che il modello italiano in questa direzione vada rivisto è un modello che si sta rivelando e si è rivelato nei fatti virtuoso e poi sapete benissimo voi meglio di me che statisticamente ormai i passaggi di carriera sono insignificanti qui c'è ben altro evidentemente e allora dobbiamo evitare di avere un magistrato requirente che si sganci completamente dalla magistratura giudicante e si ritroverà perché guardate che la riforma loro sono molto abili tutte quelle norme che vi ho detto e che conoscete non le hanno inserite in un unico disegno riformatore le disseminano qui e lì e bisogna come dire tracciare unire i punti per costruire il disegno e vedrete che ovviamente non sarà sicuramente la figura del magistrato requirente nella nuova versione è direttamente posta sotto assoggettata al potere politico ma è quella la direzione avremo un mostro autoreferenziale sganciato dalla cultura della giurisdizione una sorta di super poliziotto e ci sarà il problema di dove collocarlo dove può stare chi può dare delle direttive chi lo può guidare ci sarà un problema poi di indirizzo politico rispetto a un super poliziotto o no quindi la direzione non può che essere quella avremo una giustizia purtroppo debole con i forti e spietata con i deboli avremo un gente comune assoggettata al maglio duro della giustizia e invece la giustizia per ricchi lo dico qui a Palermo perché mentre venivo sono andato a controllare e ricordavo bene qui Calamandrei fece l'ultima ringa davanti al tribunale di Palermo nel 1956 processo a Danilo Dolci vi ricordate quello dello sciopero al contrario e quella ringa è ancora una lettura bellissima dice guardate cari giudici non fate non pronunciate questa sentenza di condanna perché se no i cittadini a gente comune i poveri avranno sempre la solita sensazione che la legge la beffa dei ricchi che lo Stato è lontano e lo Stato è il nemico che punisce col maglio più duro i poveri quelli che non hanno santi in paradiso e allora finisco questo intervento mi scuso forse è stato un po' troppo lungo c'è un problema ovviamente io non parlo delle becce e delle reazioni corporative degli esponenti politici c'è un problema di sistema un problema serio quando alcuni anche in buona fede pongono il problema della legittimazione democratica del vostro ruolo come rispondere la risposta che io mi do è che il problema della legittimazione democratica tenendo conto come dicevo che il vostro potere il vostro le vostre prerogative diventano hanno un'incidenza politica quindi c'è un problema che qualcuno è anche in tutto il mondo viene sollevato di rispondere a una comunità di rispondere anche civilmente del vostro operato io dico che gli attacchi alla magistratura vanno respinti anche in questa direzione perché vedete quando si pone il problema della legittimazione democratica questo disegno riformatore porrà un problema della sindacatica giurisdizionale sull'operato del premier ora io vi dico un premier che avrà un'investitura popolare secondo voi potrà essere sottoposto a un sindacato giurisdizionale quindi avremo ritorneremo al principe legibus solutus assoluto non potrà non sarà possibile un confronto con un magistrato non è nella logica di questa deriva verticistica autoritaria quanto a voi le garanzie di indipendenza del giudice dobbiamo affermarlo con forza e lo dobbiamo dire anche noi politici trovano la loro ragione di essere nella vostra funzione istituzionale che è quella di tutelare i cittadini e risolvere le controversie nel modo più imparziale possibile rispetto alle parti in causa parti in causa che possono essere privati pubblici e anche organi dello Stato e quanto al problema della legittimazione democratica va chiaramente risposto che è un falso problema perché l'amministrazione della giustizia è giusto che venga affidata a chi ha una cultura agli appartenenti a un ceto voi siete parte di un ceto che conosce la cultura delle regole la cultura della giurisdizione dovete lavorare come lavorate con i precedenti confrontandovi con un senso di comunità che la garanzia migliore ecco perché io sono stato un po' ve lo dico molto francamente sono sempre molto attento quando si parla troppo con eccesso di sinteticità degli atti e delle motivazioni la motivazione è la vostra giustificazione la vostra legittimazione democratica e concludo siete comunque la struttura vostra istituzionale prevede un quadro di garanzie e di contropoteri che sufficientemente vi condizionano e vi limitano per quanto riguarda l'esercizio delle vostre prerogative dobbiamo difendere il nostro ordinamento costituzionale è un bivio storico il Movimento 5 Stelle sarà assolutamente convintamente coraggiosamente determinato a farlo grazie grazie grazie